Sineco, nell'ultimo consiglio comunale è stata presa una decisione importante, possiamo dire anche fondamentale, per il futuro, per lo sviluppo rosetano. È stato approvato di fatto il nuovo tavolo del turismo. Sì, come dicevamo qualche mese fa, un passo alla svolta, o meglio, un passo alla volta verso la svolta. Pagina 2 del programma dell'amministrazione Nunes, diversi tavoli già attuati, politiche giovanili, consigli di quartiere, adesso non ultimo ma importantissimo, il tavolo del turismo, con un regolamento snello, a detta dei consiglieri che l'hanno votato e che ovviamente hanno riconosciuto, sia in maggioranza che anche qualcuno in opposizione, la validità dello stesso, l'efficacia di poter portare in maniera rapida a compimento dei progetti che vedranno lo sviluppo e la promozione della nostra bellissima rosetta, il turismo al centro del mio programma, il turismo al centro dell'azione amministrativa, una lista che ha proprio il nome Operazione Turismo, ma tutta la mia maggioranza che vede nel turismo un affare di tutti. Io credo che nel leggere il programma si vedrà che la rappresentatività, che è uno dei criteri basilari del nostro sistema democratico e costituzionale, non possa che essere l'unico criterio valido per far sì che chi parteciperà al tavolo deve avere alle spalle e a fianco a sé una serie di portatori di interesse che vedranno il bene della città e non il proprio bene al centro della propria azione. Insomma, un tavolo che per essere efficace e per essere operativo aveva bisogno di un regolamento del genere. Sineco, in poche parole dal tavolo del turismo usciranno le idee e soprattutto l'organizzazione per i prossimi eventi rosetani che ovviamente partiranno dall'imposto di soggiorno. Sì, come sapete il 25% avrà una vincolatività sempre legata però agli indirizzi di giunta e come abbiamo dovuto inserire in maniera chiara nel regolamento all'interno delle linee programmatiche del DUP, il restante 75% sarà a servizio della città sia per manutenzione legata al turismo che per eventi. L'assessore Mastrilli insieme a tutto il suo gruppo, alla consigliera del Pidio e tutto il gruppo sta lavorando per un programma eventi che entro fine marzo, al massimo nei primi di aprile, insomma prima di Pasqua, sarà come promesso anche questo divulgato e fatto conoscere la città.